Buon pomeriggio, siete collegati in Mondovisione con la Basilica di San Pietro per la cerimonia ad apertura della Porta Santa che segna l'inizio del giubileo straordinario della redenzione indetto dal Papa per invitare l'uomo a riconciliarsi con Dio e con i fratelli. Secondo i calcoli, fino a poco tempo fa ritenuti errati del monaco Dionigi il Piccolo, ma che ora sembrano confermati da un gruppo di scienziati britannici, Cristo Mori e Risorse nel 1933. Dunque ricorre il 1950esimo anniversario della redenzione e Giovanni Paolo II ha indetto tra la sorpresa generale questo giubileo straordinario proprio per chiedere al mondo una riflessione sul messaggio sempreverde di salvezza del cristianesimo. Se la passione, la morte e la risurrezione di Gesù è per i credenti un richiamo a vivere in una rinnovata conversione del cuore, il mistero della redenzione che è liberazione dal peccato ed esaltazione suprema dell'uomo, per i non credenti è un invito a rivolgere per un momento lo sguardo a Cristo che può rispondere anche ai loro interrogativi, soprattutto alle loro angosce più profonde. Giovanni Paolo II ci ricorda che ogni cristiano è chiamato a realizzare più profondamente la sua vocazione alla riconciliazione col padre nel figlio ed aggiunge che si raggiungerà pienamente lo scopo soltanto se questo tempo forte che è l'anno santo sfocerà in un nuovo impegno al servizio della pace universale. Una fede e una vita autenticamente cristiane devono necessariamente sbocciare nella carità che promuove la verità, la giustizia, la difesa degli inalienabili diritti umani. Crediamo comunque che il giubileo possa essere per tutti, anche per chi non ha la fede, un richiamo ai valori supremi dell'uomo. Tutti indistintamente avvertiamo con preoccupazione il progressivo impoverimento dell'uomo stretto tra materialismo e consumismo. Ognuno di noi, al di là della propria formazione culturale, è alla ricerca di qualcosa che possa dare un senso alla vita, che porti una ventata di speranze. Il Papa, vediamo il suo stemma pontificale, chiede di aprire le porte a Cristo, che con l'esempio della vita, con la passione e con la risurrezione può dare un significato all'esistenza dell'uomo, compresi i non credenti che in lui, come scriveva di recente la civiltà cattolica, possono trovare motivi validi per la loro vita, il proprio lavoro, il proprio impegno per gli altri e in tal modo superare il sentimento tragico dell'inutilità, anzi dell'assurdità e del non senso della vita. Un anno santo dunque, che si apre oggi e che si concluderà a Pasqua dell'anno prossimo, che deve vedere l'umanità sofferente e in grave pericolo, impegnata in un grandioso sforzo di riconciliazione. Se pensiamo per un attimo alla situazione mondiale, ci rendiamo conto che l'orizzonte è denso di nubi minacciose. Giovanni Paolo II, conversando una settimana fa in Abruzzo con gli operai, si è detto molto preoccupato, specialmente alla luce del suo recente pellegrinaggio centroamericano, nel corso del quale si è trovato di fronte a gravi violazioni del diritto alla vita e della dignità dell'uomo. Una preoccupazione che affiora in ogni discorso, in ogni messaggio, direi in ogni gesto di questo Papa, che dal giorno dell'inizio del suo pontificato il 22 ottobre 1978, non si stanca di ripetere che l'uomo deve aprire il cuore a Cristo Redentore dell'universo. A simboleggiare il sacrificio di Gesù, che fu crocifisso per l'uomo, l'apertura della porta santa sarà preceduta da una processione con la croce, che partirà dalla chiesina di Santo Stefano degli Abissini, ai piedi dei giardini vaticani. In attesa che cominci la cerimonia di questo giubileo, pregherei la regia nel frattempo di mandare in onda degli inserti pre-registrati delle basiliche, dove oltre a San Pietro si potrà ottenere l'indulgenza per questo giubileo. Ecco, qui è San Giovanni il Laterano, cattedrale di Roma. Qui la porta santa sarà aperta domani dal cardinale Poletti. La chiesa, come San Pietro, ha origini costantiniane. Notizie esatte non se ne hanno fino al X secolo, quando la basilica fu ricostruita per ordine di Sergio III e fu dedicata al Battista. Successivamente fu arricchita e abbellita da altri papi. Nel 1308 e nel 1360 due furiosi incendi distrussero San Giovanni. Urbano VI incaricò l'architetto senese Giovanni di Stefano di ricostruire la cattedrale di Roma, di cui vediamo ora la porta santa. Altri restauri furono eseguiti sotto i pontificati di Martino V e di Eugenio IV. Nel XVII secolo, Innocenzo X, incaricò il Borromini di riedificare il grandioso tempio dove si sono tenuti cinque concili. La porta santa e di San Giovanni è stata la prima di cui si ha notizia. Fu aperta la notte di Natale del 1422 all'apertura del giubileo del 423. Questa invece è Santa Maria Maggiore, costruita sul luogo dove in pieno agosto ci fu una miracolosa nevicata. Il primitivo tempio fu riedificato nel 432 d'Assisto III a ricordo del dogma della divina maternità di Maria proclamato dal concilio di Efeso. Nel XII secolo Eugenio III ampiò la costruzione aggiungendovi un portico. L'abside risale al 1290 mentre il campanile è del 1377. La porta santa in questa chiesa fu aperta per la prima volta nel 1500 come a San Pietro. Domani toccherà aprirla al decano del sacro collegio il cardinale Carlo Confalonieri. L'attuale basilica di San Paolo fuori le mura, eccola, è recentissima. Fu consacrata da Pio IX nel 1854. La vecchia chiesa era stata distrutta da un incendio divampato il 15 luglio 1823. Anche a San Paolo come a Santa Maria Maggiore a San Pietro la prima porta santa fu aperta nel 500. Quest'anno l'aprirà il camerlengo cardinale Bertoli. In quei tempi, nel 1500, la basilica si trovava in piena campagna romana ed era esposta alle scorrerie dei banditi e ai contagi della peste. Secondo il Liber Pontificalis la prima chiesa dedicata all'Apostolo delle Lenti fu edificata da Costantino sul luogo dove la matrona Licinia aveva seppellito il corpo del santo dopo il martirio. Novità assoluta dell'anno santo della redenzione indetto da Giovanni Paolo II è l'inserimento negli itinerari devozionali della basilica di Santa Croce in Gerusalemme che vediamo in queste immagini che custodisce preziose reliquie della passione di Cristo. Fu Sant'Elena a rinvenire sul Golgota frammenti della croce, i chiodi della crocifissione e le spine della corona che fu messa sul capo di Cristo. Costantino consentì alla madre di usare i fondi imperiali per costruire la chiesa. Sant'Elena avrebbe dato il via alla costruzione dell'opera prima ancora di partire per la Terra Santa dove, come abbiamo detto, nel 325 rinvenì le reliquie della passione. Esaurito questo inserto pre-registrato possiamo tornare in diretta. Ecco il regista Franco Zeffirelli che inquadra il Redentore, la statua del Redentore che troneggia sulla basilica Vaticana. Vi dicevo che il via di questa cerimonia di apertura del Giubileo avverrà in un luogo insolito alla chiesa di Santo Stefano degli Abissini, una chiesina che sorge ai piedi dei giardini vaticani, proprio in prossimità dell'abside della basilica di San Pietro. Questa chiesa si chiama Santo Stefano degli Abissini perché vicino c'era un ospizio che poi fu demolito e in questo ospizio venivano ospitati i pellegrini etiopici. Ecco intanto la croce di cui vi parlavo poco fa e che dà un senso a questo Giubileo straordinario della Redenzione. 40 giovani di ogni parte porteranno la croce in questa posizione orizzontale dalla chiesina di Santo Stefano degli Abissini a destra sul teleschermo fino all'atrio della basilica Vaticana e poi dopo che il Papa avrà aperto la porta santa anche questa croce entrerà nella basilica di San Pietro, la percorrerà in tutta la sua lunghezza e poi verrà deposta nell'abside della basilica Vaticana. ormai l'arrivo del Papa alla chiesa di Santo Stefano degli Abissini dovrebbe essere imminente, sono le 17 e un minuto e proprio in questa piccola chiesa che ricorda appunto i pellegrinaggi provenienti dalla lontana Etiopia prenderà il via questo Giubileo straordinario. Il tempo a Roma è inclemente, sta cadendo una pioggerella abbastanza fastidiosa e mi pare di notare che a fianco della chiesa di Santo Stefano degli Abissini c'è un baldacchino per coprire il Papa durante la processione, la processione alla quale prenderanno parte i cardinali, i prelati della Curia. e questi giovani di questo centro internazionale che è stato inaugurato il 13 marzo qui nei pressi di San Pietro dal Papa. Si tratta del centro internazionale giovanile San Lorenzo che prende il nome dall'antica chiesa in una viuzza ai lati di via della conciliazione dove questo centro ha la sua sede. Vedete che anche fuori la Basilica Vaticana c'è folla per assistere attraverso naturalmente agli altoparlanti alla cerimonia dell'apertura della Porta Santa che si svolge nel portico della Basilica. La Porta Santa è l'ultima a destra. Qui siamo sull'abside della Basilica Vaticana, si sta formando la processione che accompagnerà Giovanni Paolo II da Santo Stefano degli Abissini all'atrio della Basilica Vaticana. Ecco l'ingresso di Santo Stefano degli Abissini ed ecco Piazza San Pietro. Anche l'interno della Basilica è già affollato, mentre nell'atrio ci sono il rappresentante del governo, il senatore, il ministro Signorello, il presidente del senato Morlino, la signora Maria Pia Fanfani, il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e numerose altre autorità. Il momento è solenne, tra pochi istanti prenderà il via la cerimonia di apertura dell'anno santo straordinario della redenzione, indetto da Giovanni Paolo II, un anno santo che si propone non soltanto un profondo rinnovamento nella vita cristiana con la crescita della fede e della carità, ma anche un approfondimento del mistero della redenzione. Si tratta di un tema difficile e complesso, ma è necessario che i cristiani non si stanchino di riflettere su di esso, perché la redenzione è il centro più intimo, è il cuore della rivelazione cristiana, verso cui tutto converge e da cui tutto promana. Nella bolla di indizione del Giubileo della Redenzione, aperite Portas Redentori, pubblicata il 6 gennaio 1983, Giovanni Paolo II scrive che occorre riscoprire il senso del peccato e per giungere a ciò occorre riscoprire il senso di Dio. Quest'anno santo straordinario ha anche un'altra particolarità. Mentre nel passato il Giubileo veniva celebrato prima a Roma e poi nelle chiese locali, questo del 1983 viene celebrato contemporaneamente in tutte le diocesi e le parrocchie del mondo. Vedete questa folla sul sagrato della Basilica Vaticana si dovrà accontentare di ascoltare la cerimonia dell'apertura della Porta Santa che avverrà al di là di quei cancelli. Ecco Giovanni Paolo II che dà inizio alla cerimonia nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini. Grazie a Vobis et Pax a Deo Patre nostro ed a Domino Iesu Christo, qui dilexid nos ed lavid nos a peccatis nostris in sanguine suo. Fratelli, siamo qui riuniti nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini per iniziare un rito penitenziale nel momento in cui si sta per aprire con la Porta Santa l'anno giubilare della redenzione. Ora per partecipare degnamente a questa celebrazione tanto desiderata che ci prepara alla celebrazione dell'Eucaristia procediamo fino alla Porta Santa invocando su di noi peccatori la misericordia di Dio. Ora ha inizio la processione penitenziale. Durante questa processione verranno eseguiti dalla Cappella Sistina diretta da Monsignor Domenico Bartolucci vari canti in Gregoriano tra cui i salmi e le litanie dei Santi. Si comincia con le litanie dei Santi mentre osserviamo i primi ragazzi del Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo con la Croce. Questo nuovo centro di preghiera e di incontro ha sede, come vi dicevo, nella chiesa di San Lorenzo vicinissima a San Pietro. L'iniziativa è stata promossa dal Pontificio Consiglio per i Laici e vi hanno cooperato diversi movimenti giovanili della Diocesi di Roma. Il Centro vuole rispondere alle attese spirituali dei numerosi giovani che ogni anno affluiscono a Roma. Il suo obiettivo è dare alle nuove generazioni soprattutto ai pellegrini che vi passano la possibilità di incontrare nella preghiera e nel dialogo persone la cui fede si traduce in un concreto impegno di vita. La processione salmodiante esce da Santo Stefano degli Abissini e si dirige verso la Basilica di San Pietro costeggerà parte dell'abside la navata di sinistra uscirà dall'arco delle campane salirà sul Sagrato ed entrerà nella Basilica dalla porta centrale. questo giubileo straordinario della redenzione ha un precedente nel 1933 più un decimo in occasione del 1900esimo anniversario della passione, morte e risurrezione di Cristo indisse un giubileo straordinario che fu aperto il 2 aprile domenica di passione il giubileo durò fino al 2 aprile dell'anno successivo nel giubileo del 1925 lo stesso Papa Pio undecimo aveva istituito la festa della regalità di Cristo la festa di Cristo Re ecco uno dei momenti più toccanti di questa cerimonia i giovani che portano la croce per ricordare il sacrificio di Cristo per la salvezza dell'uomo questa croce come vi dicevo sarà portata nella Basilica Vaticana e rimarrà nell'abside a ricordo della passione morte e risurrezione di Gesù per tutto questo giubileo della redenzione che comincia oggi è stato portato la salvezza dell'inonio per l'ambino di Gesù e risultato ai lati della croce vedete i giovani che quasi in una staffetta spirituale si danno il cambio nel portare il simbolo della passione mentre la processione si avvia a piazza san pietro chiederei a franco zeffirelli di mettere in onda un minuto un minuto e mezzo di un documento storico l'apertura della porta santa per il giubileo del 1975 e porto domini justin tra giustine il giubileo del il giubileo del il giubileo del il giubileo del questo era un momento storico l'apertura della porta santa dell'anno giubilare 1975 apertura che avvenne sotto l'occhio impietoso delle telecamere per la prima volta sotto l'occhio impietoso delle telecamere la notte di natale del 1974 questo è il secondo anno santo televisivo il primo fu appunto quello del 1975 sia la cerimonia di apertura sia quella di chiusura furono trasmesse in mondo visione oggi grazie ai progressi della tecnologia televisiva tutti i paesi del mondo possono ricevere queste immagini che state vedendo sui vostri schermi domestici noi siamo collegati in mondo visione con molte parti del globo gli spettatori potenziali sono oltre un miliardo pensate oltre un miliardo di persone in questo momento possono vedere a casa l'apertura del giubileo giubileo che ebbe inizio nel 1300 fu bonifacio ottavo a indirre sotto la pressione popolare il primo giubileo della storia cristiana i romei i pellegrini che venivano a roma per pregare sulle tombe degli apostoli e per vedere la veronica il volto di cristo impresso su un lenzuolo chiesero a gran voce un'indulgenza particolare in occasione della fine del secolo papa bonifacio rimase un po stupito si consultò con i suoi collaboratori con i cardinali non voleva indire questo giubileo ma poi sotto la pressione del popolo il 22 febbraio del 1300 promulgò la bolla di indizione del primo anno santo cristiano nell'antico testamento si hanno notizie del giubileo precisamente bisogna leggere un brano del levitico che racconta ciò che Dio disse a Mosè sul Sinai il signore disse a Mosè conterai sette settimane di anni cioè sette volte sette anni queste sette settimane di anni faranno un periodo di 49 anni al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba dell'acclamazione nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti Giobel era la tromba del giubileo una tromba di gioia una tromba di giustizia ecco Giovanni Paolo II che esce da Santo Stefano degli Abissini e si avvia processionalmente a San Pietro per rinnovare il rito antico dell'apertura della Porta Santa vi dicevo prima che la prima Porta Santa fu aperta a San Giovanni il Laterano questa di San Pietro fu aperta per la prima volta nel 1500 quella di San Giovanni il Laterano invece fu aperta nel 1422 per il giubileo del 1423 questa di San Giovanni il Laterano L'apertura dei battenti, come del resto il passaggio dei pellegrini attraverso la Porta Santa, ha un significato unicamente simbolico, la porta, secondo un'immagine evangelica, è Cristo. Egli è la porta dell'ovile, scrive San Giovanni, è la via attraverso la quale si giunge alla salvezza. Il fatto che non venga aperta, se non dopo i tradizionali colpi di martello, ha anche esso un significato simbolico. Significa che per entrare nel Regno dei Cieli bisogna faticare perché la via è stretta e difficoltosa. La processione si sta avviando lentamente verso la Basilica di San Pietro. Altri giovani hanno preso la croce, simbolo della redenzione. E' anche simbolo di tanti mali che affliggono l'umanità in questi momenti difficili. Ogni uomo porta la sua croce. Per l'antico popolo ebraico, come vi dicevo, l'anno giubilare era un avvenimento eccezionale. Un anno felice di perdono, di perdono per gli uomini e di tregua per la terra. Se il Vecchio Testamento poneva al centro dei benefici del Giubileo i beni materiali, il nuovo privilegia i valori spirituali. Rimettere i debiti infatti per la dottrina cristiana assume il preciso significato di perdonare i peccati. Quando Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo dell'era cristiana, pensò forse non soltanto alle penitenze spirituali, come il sacramento della confessione o la recita delle preghiere, ma anche ai sacrifici materiali. basterà pensare che in quei tempi lontani, pieni di insidie, affrontare un lungo viaggio per raggiungere le basiliche romane rappresentava un rischio notevole. Essere pellegrini, insomma, era una grande penitenza. molti non riuscivano nemmeno a giungere a Roma, altri, ottenuta l'indulgenza, morivano sulla via del ritorno, altri ancora erano dati per dispersi, in quanto non facevano più avere notizie ai loro parenti. Le strade che portavano a Roma erano maltenute e insicure. Avventurarsi lungo queste antiche vie era per tutti un sacrificio enorme. Dunque, all'origine, il Giubileo cristiano fu concepito e come momento di preghiera e di meditazione, ma anche come penitenza fisica. Viaggiare, infatti, era molto duro e periglioso. La croce è giunta nell'atrio della Basilica di San Pietro, dove c'è una piccola folla ad attendere l'apertura della Porta Santa. Ecco, vedete che il baldacchino che prima avevamo visto appoggiato a fianco della Chiesa di Santo Stefano degli Abissini ripara il Papa dalla pioggia. Il Papa è preceduto da numerosi cardinali. Questa processione che si snoda attraverso il piccolo territorio del Vaticano giunge in San Pietro per rientrare dalla porta principale della Basilica è seguita da molti fedeli che, nonostante il maltempo, si sono riuniti sulla piazza. Ecco, il Papa è uscito dall'arco delle campane in questo momento, sta percorrendo Piazza San Pietro, salirà poi su per il ventaglio e, attraverso il sagrato, giungerà nel portico. Il Papa è uscito dall'arco delle campane in San Pietro per rientrare la Palabra di San Pietro per rientrare la Palabra di San Pietro per rientrare la Palabra di San Pietro per rientrare la Palabra. I cardinali che affiancano il Papa sono due nuovi membri del Sacro Collegio. Mi sembra di aver intravisto i cardinali Casoria e Sabattani che sono stati elevati alla dignità cardinalizia durante l'ultimo concistoro da Giovanni Paolo II. Noterete che Giovanni Paolo II indossa paramenti sacri nuovissimi, sono stati realizzati da un pittore tedesco che ha anche creato la medaglia annuale del quinto anno di pontificato di Giovanni Paolo II. Si tratta di Ernst Gunther Hansing, il quale ha disegnato i paramenti sacri del Papa per questa cerimonia di apertura del Giubileo della Redenzione. Cominciano oggi dieci giorni molto impegnativi per il Papa, dopo l'apertura dell'anno santo, domenica in Piazza San Pietro, il Papa presiderà il rito della Domenica delle Palme. Poi mercoledì cominceranno i riti del Triduo Pasquale che si svolgeranno qui in San Pietro e a San Giovanni Laterano e al Colosseo. Su questa rete potrete seguire in diretta la Messa domenica prossima per la benedizione delle Palme, la Via Crucis al Colosseo, la Messa e la benedizione Urbi e Torbi la domenica di Pasqua. Gli dei prelati della Curia che fanno il loro ingresso nell'atrio della Basilica Vaticana, ormai l'arrivo del Papa è imminente e la cerimonia dell'apertura della Porta Santa dovrebbe iniziare fra poco. La cerimonia comincerà con un'invocazione della Scuola Cantorum allo Spirito Santo. A termine di questa invocazione il Papa si avvicinerà alla Porta Santa, riceverà il martello dalle mani del Cardinale Penitenziere, il Cardinale Paupini e chiederà di aprire le porte della giustizia. Anche il rito dell'apertura della Porta Santa presenta quest'anno delle novità. Poco fa vi abbiamo fatto vedere l'apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo del 1975. Veniva aperta la porta con un complicato sistema di carrucole mentre quest'anno, come fra poco potrete vedere, l'apertura avverrà molto più semplicemente perché il muro che era stato eretto a chiusura del Giubileo del 1975 è stato già rimosso. Ecco, sulla destra c'è il Cardinale Paupini che è il Penitenziere Maggiore Marchigiano di Mondavio. Si, i Cardinali che assistono il Papa sono il Cardinale Sabattani, lo vedete sulla destra e Casoria a sinistra. Questi sono i rappresentanti del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede sulle pareti dell'atrio della Basilica sul lato della Porta Santa figurano tre splendidi arazzi con l'Annunciazione, la presentazione di Gesù al Tempio e la Pentecoste con Maria presente nel Cenacolo. Ecco il totale dell'atrio della Basilica con il trono papale giù in fondo come prima? Laban sia mediante di Gesù al temere si introd changesile la azione di Gesù Il martello che il Cardinale Paupini darà al Papa per l'apertura della Porta Santa è lo stesso che fu usato da Pio XI per aprire la Porta Santa nel 1925 e nel 1933. Il martello era stato donato al Papa dall'azione cattolica. Fu forgiato con vari materiali dallo scultore romano Pio Cellini. È lungo 34 cm, ci sono incisi gli stemmi di Pio XI dell'azione cattolica e la scritta Pax Christi in Regno Christi. Il Papa ha raggiunto la cattedra, alla sua destra c'è la Porta Santa che è abbastanza recente. È stata eseguita per il giubileo del 1950 da un artista senese, Vico Consorti, che realizzò l'opera in dieci mesi. La Porta ha 16 formelle, le prime due rappresentano la cacciata di Adamo e Deva dal Paradiso, la terza e la quarta mostrano l'annunciazione, la quinta il battesimo di Gesù. Alla dodicesima formella c'è la crocifissione, mentre nella quindicesima Consorti ha scolpito sul bronzo, la conversione di San Paolo sulla via di Damasco. Inizia il rito per l'apertura della Porta Santa del Giubileo 1983. Ora Il Papa dice Signore Dio, Padre di Misericordia, Tu che concedi alla Tua Chiesa questo tempo di penitenza e di perdono, perché essa abbia la gioia di rinnovarsi interiormente per opera dello Spirito Santo e di camminare sempre più avanti nelle Tue vie, restando in mezzo al mondo un segno di salvezza e di redenzione, degnati di rispondere alle nostre attese. Aprici completamente la porta della Tua Misericordia per schiuderci un giorno le porte della Tua abitazione in cielo, dove Gesù, Tuo Figlio, e primo della stirpe degli uomini, ci ha preceduto per poter tutti insieme cantare a Te in Eterno. Ora la scuola Cantorum intona l'inno allo Spirito Santo. Grazie a tutti. Ecco, il regista Franco Zeffirelli ha scoperto la Porta Santa che fra pochi istanti verrà aperta da Giovanni Paolo II. Vi parlavo prima delle sedici formelle dello scultore senese Consorti, l'ultima delle quali in basso rappresenta Pio XII che apre la Porta Santa per il Giubileo del 1950. la Porta Santa per il Giubileo del 1950. La Porta Santa per il Giubileo del 1950. la Porta Santa per il Giubileo del Grazie a tutti. 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 E significativamente questo giubileo inizia proprio oggi per concludersi a Pasqua dell'anno prossimo. Tutta la storia della redenzione sarà dunque compresa in questo anno santo voluto da Papa Voitiwa. Domani saranno aperte le porte sante delle altre basiliche patriarcali. Il vicario Poletti aprirà quella di San Giovanni Laterano. Il decano del Sacro Collegio, il cardinale Carlo Confalonieri, 91 anni, arciprete della Basilica Liberiana, aprirà quella di Santa Maria Maggiore. Intanto vedete i giovani che portano all'interno della Basilica Vaticana la croce, simbolo della redenzione. La porta santa di San Paolo fuori le mura sarà invece aperta dal camerlengo cardinale Bertoli. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vi dicevo che questa trasmissione viene vista in tutto il mondo grazie ai moderni sistemi di comunicazione via satellite. In Europa, oltre ai telespettatori italiani, possono assistere all'apertura della Porta Santa anche quelli di Austria, Belgio, Germania, Olanda e Portogallo. Negli Stati Uniti d'America, dove è circa mezzogiorno, la trasmissione è sugli schermi di una delle tre più grandi catene televisive nazionali, la CBS. Massiccia è la partecipazione dei paesi dell'America Latina, soltanto Brasile e Argentina possono avere in questo momento di fronte ai teleschermi circa 300 milioni di persone. Interessante notare che la solenne cerimonia dell'apertura del Giubileo della Redenzione viene trasmessa anche dalle televisioni di paesi come il Giappone, dove i cristiani sono una esigua minoranza. Intanto potete osservare questa magnifica immagine ripresa da una telecamera nascosta sopra l'altare della cattedra di San Pietro. Ecco che Zeffirelli scopre lentamente la confessione, il grande altare papale dove Giovanni Paolo II fra poco comincerà a celebrare la messa dell'Annunciazione. Transita ora per la Porta Santa l'Ambasciatore presso la Santa Sede del Guatemala, decano del Corpo Diplomatico. Sono momenti solenni, momenti storici, vissuti con grande intensità dal Papa e dai fedeli. Il Papa non rinuncia nemmeno oggi al contatto con la folla, con i fedeli. Si è fermato a salutare alcune suore della famiglia di madre Teresa di Calcutta. Ancora un momento rivolto ai poveri. Siamo Suite senza nuova, Ancora un momento rivolto ai poveri. E allora dicano dell'Italia carica daillerà eh e dai dovreste whatnot. Ancora un momento rivolto ai poveri. Vissuti con grande ontzioni ruptate ma victorious. Intanto i ragazzi del centro internazionale giovanile San Lorenzo che portano la croce nell'abside della Basilica Vaticana mentre il Papa si accinge a celebrare la Messa all'altare della Confessione. Vi dicevo che questa croce rimarrà per tutta la durata del Giubileo nella Basilica di San Pietro. Grazie a tutti. Sono presenti 27 cardinali numerosi arcivescovi e vescovi e questo grande applauso saluta il Papa che, deposto il piviale, è salito all'altare della Confessione per la Messa. Intanto dalla Porta Santa stanno passando i primi pellegrini e personalità, cioè che hanno assistito alla solenne cerimonia di apertura del Giubileo. Vi dicevo che la Porta Santa è abbastanza recente, è stata eseguita nel 1950 dallo scultore senese Vico Consorti e fu donata dalle popolazioni di Basilea e di Lugano come segno di ringraziamento per essere state preservate dal flagello di due guerre. Dicevo anche che alla cerimonia c'è per il Governo italiano il Ministro Nicola Signorello, è presente anche il Presidente del Senato Morlino e la consorte del Presidente del Consiglio, la signora Maria Pia Fanfani. Ho visto anche il Sindaco di Roma, Vetere, ed altre autorità. Un Giubileo questo che si celebra contemporaneamente non soltanto a Roma, come avveniva in passato, ma in tutte le diocesi del mondo. Comunque è previsto un grande afflusso di pellegrini a Roma in occasione dell'Anno Santo e già le prime avanguardie sono giunte in vista delle celebrazioni pasquali che cominceranno, come vi dicevo prima, domenica prossima con la messa della Domenica delle Palme che Giovanni Paolo II celebrerà sul Sagrato della Basilica Vaticana dopo la benedizione dei ramoscelli d'ulivo, simbolo della pace, fatta all'obelisco di Piazza San Pietro. A inizio la messa dell'annunciazione. A inizio la messa dell'Anno di Piazza San Pietro. A inizio la messa dell'Anno di Piazza San Pietro. Grazie a tutti. 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 Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. Grazie a tutti. 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 scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il senso mese per lei, che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Dixit aute Maria, ecce Ancilla Domini, fiat mici secundum verbum tu. E discessita bilangelus, verbum Domini, laudite. A questo punto della Messa, dopo la proclamazione del Vangelo, c'è l'Omelia del Papa. Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Queste parole del profeta esprimono il segno che il Signore darà alla casa di Davide. il Signore stesso vi darà un segno, ed è il segno che il re Acas non voleva chiedere da Dio. Perché i suoi pensieri e il suo cuore non tenevano conto delle assicurazioni del Signore manifestate nella promessa fatta a Davide. è il segno che, contrariamente al re, proclamò alla casa di Davide il profeta Isaia, l'Evangelista dell'Antico Testamento. E' il segno in cui si realizza la promessa e viene la pienezza del tempo. il Dio della Maestà infinita diventa Emanuele, Dio con noi. è il segno in cui ha inizio la redenzione del mondo exordia salutis nostre, perché già sarà nel grembo purissimo della Vergine Maria, l'Emmanuele è il nostro Redentore. In questo segno ha oggi inizio l'anno santo della redenzione. ecco, viene aperta la porta del Giubileo straordinario, ed entriamo per essa nella base di la Basilica di San Pietro e la Basilica di San Pietro. E' un simbolo. Con questi pensieri e voti viene aperta la porta del Giubileo straordinario, ed entriamo attraverso di essa nella Basilica di San Pietro e contemporaneamente in tutte le catedrali vescovili, in tutte le chiese parocchiali, in tutte le capelle, anche nelle terre più lontane, e specialmente in quelle delle missioni, entriamo in tutte le comunità cristiane, quali che siano e dovunque esse siano al mondo, specialmente nelle catacombe del mondo contemporaneo, il Giubileo straordinario della Redenzione è l'anno santo di tutta la Chiesa. da questa soglia oggi noi vediamo aprirsi un'ampia prospettiva su tutto un tempo di grazia che perdurerà fino alla Pasqua dell'anno prossimo, dall'incarnazione alla Pasqua. Alla soglia dell'anno giubilare della Redenzione, la liturgia dell'odierna solennità ci proclama il compimento di quel segno che, secondo le parole del profeta Isaia doveva essere dato alla casa di Davide. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. E così avviene. Il segno è compiuto e prende forma nel mistero dell'Annunciazione. Conosciamo bene questa forma. Noi amiamo profondamente l'Annunciazione Angelica. Ritorniamo ad essa tre volte al giorno con la preghiera dell'Angelus. Essa è l'invocazione delle nostre labbra e il canto dei nostri cuori. Essa ci riporta continuamente a quella annunciazione a Maria, nella cui solennità, che associa il figlio e la madre nel mistero dell'Incarnazione, vediamo pure il momento più adatto per dare inizio all'anno della Redenzione. Nell'Annunciazione, infatti, si è avuto l'inizio della Redenzione del mondo. L'Emmanuele, Dio con noi, è quel Cristo che nella lettera agli ebrei parla al Padre. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo, invece, mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Così dice Cristo, verbo eterno del Padre, figlio suo prediletto. In queste parole sta l'inizio della Redenzione del mondo e tutto il suo disegno fino alla fine. La Redenzione del mondo è legata a quel corpo ricevuto da Maria ed offerto nel sacrificio della croce, divenuto poi il corpo della risurrezione, il primo genito dei morti. E perciò, nel suo stesso inizio, la Redenzione del mondo è legata ad una parola che fa eccheggiare la mirabile obbedienza di Cristo nella santa obbedienza della Vergine di Nazareth. Proprio a lei si rivolge l'annunziazione di Gabriele. Proprio a lei sente la decisiva risposta dell'angelo alla principale domanda. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. E proprio lei, Maria di Nazareth, accoglie questa risposta ed accoglie nel suo grembo e nel suo cuore il figlio di Dio come figlio dell'uomo. E in lei il verbo si fece carne dopo quella sua parola d'obbedienza in sintonia con Cristo. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Di lei, prima Redenta, Dio fece la porta d'ingresso del Redentore nel mondo. Oggi noi tutti, qui riuniti nella Basilica di San Pietro a Roma, o nelle comunità del popolo di Dio disseminate in tutto il mondo. Accogliamo questa annunciazione come il compimento del segno della profezia di Isaì. Accogliamo in quel segno l'Emmanuele. Professiamo la nostra fede nell'inizio della redenzione del mondo. Da questo inizio desideriamo proseguire per tutte le tappe del Giubileo straordinario. Desideriamo ottenere che questo anno, che nella storia dell'umanità è marcato col segno dell'anniversario della redenzione, diventi per noi giorno per giorno l'anno di grazia del Signore. anno di grazia che io, successore di Pietro, invoco. invoco da Te, Signore, di ogni epoca e di tutta la storia, che ci hai amato fino alla morte per darci in abbondanza la vita. Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, che hai preso il tuo corpo dalla Vergine Maria e ti sei fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Gesù Cristo, Redentore dell'Uomo, tu che sei lo stesso ieri ed oggi e per i secoli, accogli questo anno del Giubileo straordinario che ti offre la tua Chiesa per celebrare il milenovecentocinquantesimo anniversario della tua morte e risurrezione per la redenzione del mondo. Gesù Cristo, tu che, dell'opera della redenzione, hai fatto la sorgente di un dono sempre nuovo per la tua sposa terrena, fa penetrare la sua forza salvifica in tutti i giorni, le settimane e i mesi di questo anno, affinché esso diventi per noi veramente l'anno di grazia del Signore. fa che noi tutti, in questo tempo d'elezione, ancor più amiamo te, rivivendo in noi stessi i misteri della tua vita, dal concepimento e dalla nascita fino alla croce e dalla risurrezione. sii con noi, mediante questi misteri, sii con noi nello Spirito Santo, non ci lasciare orfani, ritorna sempre a noi. fa sì che tutti si convertano all'amore, vedendo in te, figlio dell'eterno amore, il Padre che è ricco di misericordia. Nel corso di quest'anno, la Chiesa intera risenta l'abbondanza della tua redenzione, che si manifesta nella remissione dei peccati e nella purificazione dei loro residui che gravano sulle anime chiamate ad una vita immortale. aiutaci a vincere la nostra indifferenza e il nostro torpore. Donaci il senso del peccato. Crea in noi, o Signore, un cuore puro e rinnova uno spirito saldo nella nostra coscienza. fa, o Signore, che questo anno santo della tua redenzione diventi pure un appello al mondo contemporaneo, che vede la giustizia e la pace sull'orizzonte dei suoi desideri e, tuttavia, concedendo sempre maggiore spazio al peccato, vive giorno per giorno in mezzo a crescenti tensioni e minacce e sembra avviarsi verso una direzione pericolosa per tutti. aiutaci tu a cambiare la direzione delle crescenti minacce e sventure nel mondo contemporaneo. risolleva l'uomo, proteggi le nazioni ed i popoli, non permettere l'opera di distruzione che minaccia l'umanità contemporanea. O Signore Gesù Cristo, si dimostri più potente l'opera della tua redenzione. Questo implora da te, in questo anno, la Chiesa, mediante tua madre, che tu stesso hai dato come madre di tutti gli uomini. Questo implora da te, la Chiesa, nel mistero della comunione dei santi. Questo implora con insistenza la tua Chiesa. O Cristo, si dimostri più potente nell'uomo e nel mondo l'opera della tua redenzione. Amen. Applausi Applausi Credo in honom Devo 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 e e e e e e e a tutti. e a... a tutti. a... a tutti. a tutti. e... 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 ... e... 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 e...